Allora, buongiorno a tutti e a tutti, siamo al nostro quarto incontro. Oggi abbiamo con noi Igor Zirusso, che è un Digital Public Historian, che è la cosa principale che mi piace dire, poi mi spiegherà bene. Lui lavora all'Istituto Nazionale Parry, è nel direttivo di Popistory ed ha, diciamo, messo a punto questo gioco ed è anche specializzato in didattica del gioco e negli open game. Adesso io lascio subito la parola a Jaime, o vuoi qualcosa? Allora, prego. Ok, grazie. Buongiorno a tutti, allora quanti siamo? Alzi la mano a chi poi vuole anche giocare, oggi giocheremo meno delle altre volte. Mi prendo il gioco. Vuoi giocare? Vuoi giocare? Ok. Ma non tutti veramente. Tutti vuoi giocare. Io sì. Ma non voglio togliere spazio da nessuno. Jaime e fuori. No, no, anche se lo fai mi devo dividere in squadre, in brigate e partigiane, e poi faremo questa simulazione di avventura, diciamo, gioco di ruolo, avventura online, insomma. Poi vi spiegherò perché. Perché Milano 45 qualcuno di voi lo conosce? Non ne ha mai sentito parlare? Sì, tu sì? Il nome sì. Ok. È un urban game Milano 45, che significa che per giocare alla versione di Milano 45 dovremmo prendere un treno, andare a Milano e potremmo giocare a Milano 45. Altrimenti non si può giocare alla versione dell'urban game. Però ci sono delle alternative che abbiamo pensato e alle quali poi effettivamente giocheremo. Io, purtroppo, non sono stato presente alle precedenti lezioni, non sono stato presente, magari mi sposto se una varia non mi prende, non sono stato presente, non ho neanche potuto vedere i video, purtroppo gli chiedo scusa perché mi interesserebbe anche molto, ma ne fa la digital public di storia. Ne ho mille mila e quindi faccio un po' fatica. No, no, poi li recupererò. Quindi magari vi dico alcune cose adesso che più o meno voi già avete sentito nelle precedenti lezioni. Sostanzialmente il gioco, che caratteristiche ha un gioco? Fondamentalmente si possono identificare quattro caratteristiche, che sono queste. Allora, la prima, il gioco deve essere? Il primo. Spaventoso. No, deve essere volontario. Non possiamo fare come l'enigmi, come so, che prendeva le persone, le rinchiudeva in un posto e le costringeva a giocare. Quello non è un gioco, quello è un'altra forma di tortura, quindi il gioco deve essere volontario. Poi il gioco deve avere un inizio e una fine, esattamente, quindi si deve sapere quando si inizia e quando si finisce. Ci sono alcune esperienze, soprattutto nel mondo digitale, in cui si chiamano dark play, in cui effettivamente i giocatori continuano a giocare anche dopo che teoricamente l'esperienza di gioco è finita e con delle percussioni psicologiche molto forti. Poi il gioco deve avere? The winner. Un vincitore, quindi degli obiettivi, no? Degli obiettivi raggiunti quali, o non raggiunti quali, ci determina la vittoria, la confitta. Che può essere contro il gioco oppure di un giocatore, di un gruppo di giocatori su un altro, su altri. E poi, la cosa più importante, il gioco deve avere... Com'è? Regole. Regole. Ma tu, Enrico, non farei la secchiona della situazione. Io sì, perché queste cose... Deve avere delle regole che siano chiare fino all'inizio, che non possono teoricamente modificarsi nel corso del gioco. Il gioco, tu hai detto, deve essere divertente. Ecco, su questo io sono abbastanza, però, settane, se sono dogmatico. Divertente in che senso? Cioè, il gioco deve essere divertente con tutte le volte che si gioca... Ah, ah, che bello! Stiamo divertendo? No, divergente. Divertente, presa la ritmologia latina, divergere, quindi portare altrove. Cioè, il gioco deve essere un'esperienza coinvolgente che ci può anche far star male. Non so se voi avete mai giocato a un gioco, a un videogioco come The Town of Light. Che è ambientato nel manicomio di Volterra. È un gioco fortemente perturbante e disturbante. Personalmente mi ha fatto veramente caccare sotto. Però, insomma, mi ha portato altrove, decisamente. Perché il giocatore, quando è immerso, quando gioca, deve essere immerso in questo flow, nel flusso di gioco. Quindi deve dimenticarsi quasi del resto, no? Com'è fatto un gioco? È fatto, sostanzialmente, da quattro... da tre elementi. Componenti, cornice narrativa e meccaniche dinamiche. Sostanzialmente questo è il triangolo dentro al quale deve stare il gioco. Cioè, è il triangolo del game design. Chi fa un gioco deve stare all'interno di questo triangolo. Cioè, che poi può diventare una piramide con il quarto elemento necessario quando si fa un gioco. Cornice narrativa, componenti, meccaniche. Cos'è che manca? Cos'è che realmente... Cioè, abbiamo queste tre cose, ok. E poi come si gioca? Cosa fa partire il gioco? Il giocatore. Il giocatore, esatto. Esatto. Senza il giocatore il gioco sta lì e non funziona. Ok. Ok. Esempio... Celevernimo di gioco. Risico. Risico. Qui dove sono le meccaniche dinamiche, la cornice narrativa? Proviamo un po' a vederlo insieme. Allora, le meccaniche, le componenti dove sono? La carta. La carta, i carammatini. Ok. Semplice. Le meccaniche dove sono? Sono... Nel modo in cui ti sposti nelle regioni. Ma cos'è che determina le meccaniche del gioco? Allora... Il regolamento. Il regolamento ci spiega come funziona un gioco. Le meccaniche del gioco. La cornice narrativa qual è? Conquista globale. Il mondo è migliore. Sostanzialmente sì, è un gioco di conquista globale. Ora io posso modificare uno di questi elementi, quindi cornice narrativa, componenti, o anche alcuni di questi elementi, e avere un prodotto ludico completamente diverso. Io qui modifico la cornice narrativa, che è quella del trono di spade. Modifico in qualche modo anche i componenti, perché non ci sono i carammatini, ci sono i simbolini delle varie case nobiliari. Però poi le meccaniche in realtà sono quelle del rischio. Io qui potrei anche, che ne so, avere una cartina dell'Europa durante la guerra fredda. Quindi cambio la cornice narrativa e potrei avere un gioco che da un gioco un po' più astratto, io non lo definisco un gioco storico, che è una definizione abbastanza esrucciolevole secondo me, risico non lo definisco un gioco storico perché mancano troppi, troppi, troppi componenti necessari per definire un gioco storico, ma se io appunto gli cambio la cornice narrativa può diventare un gioco che gioca con la storicità. L'importante è che quindi sia una narrazione coerente, immersiva, simulativa, cioè in cui il giocatore sia in grado di esercitare la propria agency, ovvero l'azione, determinando così attivamente lo sviluppo della trama. Domande su questo? Prima che passiamo allo step successivo? Ok, andiamo invece allo specifico dei giochi di ruolo, o RPG, role playing game, in marzo inglese. Ok, un gioco di ruolo, abbreviato spesso GDR RPG, è un gioco dove i giocatori assumono il ruolo di uno o più personaggi in uno spazio immaginato, dove tramite l'azione e o lo scambio dialettico avvengono fatti ed eventi fittizi, e una cornice narrativa che può ispirarsi ad una fonte reale, realistica o di pure invenzione. Essa può quindi essere anche un romanzo, un film, anche un'epoca o una particolare vicenda storica, un particolare momento storico, o un processo storico, cioè la caccia alle strelle. Le regole del gioco di ruolo gli dicono come, quando e in che misura ciascun giocatore può influenzare lo spazio immaginato. Io vorrei partire proprio da questo concetto, dal concetto di spazio, spazio di gioco, giocare allo spazio. Partiamo da Wisinga. Tutto il gioco esiste, si svolge all'interno di un'area delimitata in precedenza, materialmente e idealmente, deliberatamente, o in quanto dato di fatto, del posto consacrato proprio di un rituale. Non può essere puramente distinto dall'area di un gioco e tra essi non ci sono differenze. L'arena, il tavolo da gioco, il tempio, il palco, lo schermo, il campo da tennis, la corte di giustizia, sono tutti terreni di gioco, all'interno dei quali vengono leggi speciali. Tutti questi luoghi sono mondi temporane all'interno del mondo ordinario dedicati all'esecuzione di un atto a parte. C'è una cosa che dice Giorgio Berti, che è la persona che con me ha creato il mio anno 45, se noi vediamo due persone che fanno un gioco, anche di scacchi, e non sappiamo niente di quel gioco, a me sembra che due persone che fanno qualcosa che non ha senso. Visto dall'esterno, non ha alcun senso, perché invece il senso ce l'ha nel momento in cui c'è un'interazione in quello spazio definito con delle regole definite. Quindi riprendiamo anche quello che dice Zimmerman, gli parla proprio della scacchiera, gli dice immaginate di venire a trovare in uno studio, C'è una scacchiera, noi possiamo usare la scacchiera come vassoio, possiamo usarla in qualsiasi modo, ma nel momento in cui decidiamo di cominciare una partita di scacchi, in quel momento quella scacchiera assume un suo preciso significato, i pezzi assumono un loro preciso significato, e il movimento dei pezzi è codificato da delle regole, che sono quelle che sono date. E mentre giochiamo, tra noi e lo spazio di gioco emergono significati come causa effetti del giocato. Domande? Dubbi fin qua? Lo chiaro? A questo punto mi viene bene. Anche la didattica funziona allo stesso modo. Posso usare un'aula con un sacco di cose, però nel momento in cui decido che poi in un momento didattico l'aula assume quel significato. Esatto, ma infatti quando si fa didattiche, si progetta ad esempio il laboratorio con le fonti, quindi si dispone anche l'aula didattica, lo spazio didattico in un certo modo, che sia funzionale a quell'azione. Ovvio, sì sì, certo. Analizziamo invece il rapporto un po' più stretto tra giochi di ruolo e spazio di gioco, identificando quali sono le tipologie di gioco di ruolo. Abbiamo quello da tavolo, quindi lo spazio di gioco è in qualche modo il tavolo, in una stanza, e ci sono carte, martite, dagli, eventualmente anche le miniature, che giocano di ruolo dal vivo, che hanno un approccio più recitativo, spesso si contaminano anche con la living history, non so se avete presente sulla living history, tipo rievocazione, l'utilizzo di figuranti in abito, in costume perché loro ci temono a dire abito, se dici costume si arrabbiano tantissimo. Perché si arrabbiano? Perché per loro, perché io ho scritto di costume, non ho sbagliato, perché si chiama abito. Io ho fatto soltanto ruolo all'Arnie Magaglie, alla fiera per conto di IPH, e io due o tre volte ho detto costume perché, non essendo del settore, mi è scappato, e vedevo che subito si impermanivano. Perché abito, abito. Costume è un travestimento, è qualcosa di poco serio, invece abito dà l'idea del... Si è capito, però è della gente che immagino visto da Pietro Micca, voglio dire, non è normale. Se guarda... A me ma guarda... Ma è vero, se vado a Pietro Mister, poi non è che ti puoi preoccupare, che qualcuno dice che c'hai un costume. Il responsabile di quello che sta vicendo è il responsabile di lui, si deve costuminarlo, davanti a lui per il peccato. No, è vero, ma forse Pietro Micca è poco, c'è anche il peggio, crediamoci. Però, adesso peraltro sul sito di IPH è uscito il grossario della rievocazione storica, e infatti insistono proprio molto su questo progetto di abito e non costume. È la definizione loro, quindi noi ci uniformiamo. Si, a me è successo che in una situazione di rievocazione storica erano una compagnia centrale, però che tenero che si chiamassero scenette. Eh, beh, la scenette già, un po' più lo puoi capire, una scenette effettivamente è uno un po'... Abito, costume, effettivamente, è una semantica, diciamo. però loro ci trovano, quindi noi ci adeguiamo. E quindi, lo spazio di gioco può essere preparato appositamente per invergere meglio i giocatori nella simulazione, ma anche no, non necessariamente. Diciamo che il gioco di ruolo dal vivo, l'ambientazione coerente, aiuta l'immedesimazione, ma non è estremamente necessaria, come il caso poi di tutto che vedremo di 1945, e poi c'è naturalmente il gioco di ruolo videogioco online, ma non è materia del discorso di oggi. Il gioco di ruolo da tavolo. tutti quanti, spero conosciate la citazione, è visiva, no? Enrico, ti vedo smarrita. Molto grazie. Big Bang Theory. Big Bang Theory. Big Bang Theory, è il telefilm che di fatto ha sdoganato la cultura nerd come una cosa fichissima e non più per emarginati, e infatti per questo noi tutti quanti un po' nerd lo amiamo. In questo particolare, tra la gente stanno giocando a Dungeons & Dragons, quindi un gioco di ruolo da tavolo. Vedete, c'è qui, c'è Awar che fa il Dungeon Master, che quindi, governa un po' lo sovraggimento della trama, gli altri che giocano, e qua, appunto, c'è al centro, sul tavolo, appunto, la cartina con le miniature. Naturalmente, può sembrare una cosa leggera il gioco della tavola, ma in realtà, se vedete il manuale di Dungeons & Dragons ha un mallopetto alto così. quindi, ogni interazione, ogni azione, è assolutamente codificata, regolata, le caratteristiche dei personaggi, insomma, c'è dello studio. Insomma, bisogna studiare per fare un gioco di ruolo da tavolo. non è che lo si fa così alla leggera. E poi, un elemento fondamentale del gioco da tavolo sono i dati, l'Ale, io che ho portato anche i miei, come vedete, che sono anche nuovi di pacca. ci sono dati di diverso tipo, c'è quello, questo cos'è il D20, no, questo è il D12, questo è il D20, questo è un DO, no, D10, insomma, vari dati, ognuno dei quali serve una precisa definizione. Tendenzialmente, in un gioco di ruolo bisogna tirare un dato fra un determinato punteggio per riuscire ad avere successo in un'azione. Naturalmente c'è anche un esempio di gioco di ruolo se è un po' storico, storico, che è l'Ex-Arcana, non so se lo conoscete, l'avete mai sentito, l'Ex-Arcana è un gioco tipo Dungeons & Dragons, che è ambientato durante l'epoca romana, la protagonista appunto è questa legione, però è un elemento, e questa è una caratteristica in realtà dei giorni di ruolo da tavolo, un gioco che mescola la storicità con molti elementi fantasy. Girati? No, no, sì. che mescola la realtà con elementi fantasy. Il gioco di ruolo è effettivamente da tavolo, nasce col fantasy con Dungeons & Dragons e quindi le contaminazioni del fantasy e del fantastico sono estremamente frequenti. Però comunque è un gioco in cui c'è della storicità, morendo si può imparare qualcosa sulla storia romana anche giocando all'Ex-Arcana. passiamo ai giochi invece dal vivo e cioè a giocare alla realtà, al gioco che diventa gioco pervasivo, appunto l'esperienza di gioco che si estende nel mondo reale. Cioè il mondo fittizio si fonde con il mondo fisico e c'è una sovrapposizione tra area di gioco appunto all'ambito del gameplay e mondo reale. L'interazione appunto avviene anche con il mondo reale. Quindi non c'è appunto come nel gioco di ruolo da tavolo un tavolo, quindi uno spazio immaginato come questo è una scacchiera ma è la realtà che diventa l'area di gioco, lo spazio di gioco. E infatti in questo caso si parla di live-action role-playing, l'ARP. Qui vedete delle persone vestite appunto anche qui influenza fantasy è molto grande, qui c'è una sorta di elfo credo che sia, un soldato, una creatura mostruosa tipo demon, non lo so. Questo invece è un altro esempio. questa sembra una foto dei come avevo, sembra un'intera vittoriana o forse del primo del novecento, no? Una foto dell'altro lì, un altro lì, non lo so, ma insomma dei giorni nostri. Questi sono appunto delle persone che stavano facendo un gioco di ruolo dal vivo con l'ambientazione un po' steampunk, lo sarebbe presente lo steampunk, insomma quindi ambientato all'inizio del novecento ma con gli elementi di magia, scienza. Insomma ovviamente tutti quanti in abito. Bravissima. Sono in abito appunto. Questo che cos'è? Escape room. Escape room. Anche le escape room fa parte dei giochi di ruolo da vivo, insomma in quel caso lo spazio fisico e l'arena di gioco è una stanza o più stanze. C'è un'associazione peraltro di queste parti, Quarteggio 2.0, non so se li conoscete, che fa questo escape room ah, lo fa, non mi ricordo, il ricetto. Albena. Albena, sì. Sono molto bravi, ho conosciuto una di loro e ho un'esperienza interessante. È un escape room all'ambientazione storica, cioè l'obiettivo è fuggire da questo posto, scappare dai fascisti sostanzialmente, perché i figuranti in abito appunto fanno l'interno dei fascisti e i giocatori devono uscire da questo posto. Ok. Giocare la realtà però diventa anche un gioco pervasivo. Soprattutto anche con l'utilizzo delle tecnologie, realtà aumentata o realtà virtuale, uno dei giochi Pokémon GO. Sei presente? proprio Pokémon GO. Ecco. Il Pokémon GO è un gioco pervasivo. Si gioca in realtà in più con l'approccio, diciamo così, con l'aggiunta di strumenti tecnici che quindi in qualche modo aumentavano la realtà. Se io gioco lo spazio fisico della città, cioè l'obiettivo del mio gioco è spostarmi da un luogo all'altro di uno spazio urbano, tendenzialmente, ma non solo, e completare il gioco è proprio dato dal mio spostarmi con successo nei luoghi corretti, si parla di gioco locativo. Quindi, l'area del gioco è fusa con gli elementi di uno specifico paesaggio e il gameplay è in larga parte orientato all'azione, quindi con attività connessa all'orientamento, come la risoluzione di prove, come scatti fotografici, risoluzioni di... tipo caccia al tesoro, insomma, no? Sì? Come? No, no, mi è venuto, canti dire, una caccia al tesoro. Ah, esatto, sì. Tipo una caccia al tesoro, quindi l'obiettivo, cioè il gioco si sviluppa spostandosi da un punto all'altro di uno spazio che può essere urbano, ma non necessariamente, può anche essere in bosco, per esempio, no? E naturalmente il gioco locativo urbano sfida la tradizionale logica dello spazio di gioco, influenza anche la percezione dello spazio circostante da parte dei giocatori, perché appunto alcuni luoghi in qualche modo acquistano un nuovo significato che può essere un significato legato semplicemente all'esperienza di gioco, ma anche no. Quando appunto si parla di spazio urbano si parla di gioco urbano, gioco locativo, urban game. Ok, ho detto nel gioco urbano e nel gioco locativo i luoghi possono assumere dei significati che sono legati all'esperienza di gioco in sé, ma anche no. Possono anche essere legati a significati del passato. Quindi si parla di urban game storico, cioè i luoghi scelti nell'itinerario sono dei luoghi che sono scelti in base ai loro significati storici. Quindi la storia in questi giochi entra quantomeno a livello di cornice narrativa. Quanto meno. Ok, questo tra l'altro è proprio un'immagine di Milano 45 dall'anno scorso. Questa era una delle prime prove che dovevano risolvere e l'abbiamo fatto con una scuola con 48 studenti di una scuola di Porto Canino. E una delle prime prove era poter inserire i pezzi di una mappa per capire in che mondo dovevano arrivarsi. Perché è importante parlare di gioco urbano storico? Perché è importante fare un gioco urbano storico? Perché i luoghi spesso sono oggetto appunto di sedimentazione di stratificazione dei significati che i cittadini nel corso degli anni gli hanno conferito hanno conferito loro o anche di una perdita di significato. Nel senso che ci sono tanti luoghi legati alla quotidianità che nonostante rechino anche degli identi segni che raccontano la loro importanza storica del loro legame col passato va bene percepito questo legame. A Modena fanno sempre questo esempio della Ghirlandina che è la torre insomma di campanile del Duomo sotto c'è la rapide con tutti i volti dei partigiani si trova sulla via di Emilia con una via di passaggio molti cittadini mondanesi ci passano sotto e quando gli chiedi ma cosa c'è alla base della Ghirlandina? Ah boh si boh non mi ricordo non lo so. Quindi un luogo che pur avendo un segno è entrato talmente tanto nella costituzione del movimento nel tessuto urbano che non viene percepito. In qualche caso ci sono anche luoghi che sono mutili cioè che non hanno segni. Vediamo qualche esempio che adesso è riferito a Miano 45. Allora questo potete sapere che cos'è lo dico io questo è il palazzo del credito italiano si trova in Cordusio siamo alle porte del Duomo praticamente il Duomo è di qua il castello è di qua e di là c'è dentro il credito italiano lavorava Alfredo Pizzoni come direttore della banca e Alfredo Pizzoni era il capo del Comitato di Liberazione Alta Italia quindi del massimo organismo politico della resistenza clandestina e da lì Pizzoni appunto smistava fondi mentre aveva in contatto con gli alleati quindi è un luogo che all'epoca aveva estrema importanza c'è una lapide che lo ricorda molti cittadini ci passano di fianco e nemmeno sanno molti cittadini era Pizzoni ma al di là di questo non sanno neanche il significato di quel luogo Milano sì Milano Milano questo è un altro luogo famoso questo forse non lo conoscete neanche voi questo è l'hotel Regina l'hotel Regina era la sede del comando dell'SS a Milano quindi era un luogo dove Seveca che era il capo dell'SS a Milano decide i nomi dei 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 della rapide nuova ci è molto discutibile in alcune parti c'è la rapide però vedete cosa c'è adesso anche una terra dell'hotel Regina dell'ex della terra Regina c'è la Bank of China quindi non c'è più l'albergo vedi l'hotel Regina e vedete la lapide in mezzo al Bank of China quindi le stratificazioni duanovane però almeno la lapide c'è che ricorda che ricorda cosa è stato questo luogo questo è un altro luogo molto importante questo è in piazza della Scala la Scala è qua la galleria è qua, di là c'è Palazzo Marino quindi la sede del comune in mezzo c'è la statua di Leonardo la banca commerciale era il luogo dove in realtà anche questo la resistenza e gli alleati entravano spesso in contatto quindi è un luogo anche questo legato molto al movimento partigiano milanese e in generale italiano, qui però l'Api non ce ne sono quindi questo è un luogo molto un luogo nel quale non si sa che cosa è successo nel passato questa è Foro Bonaparte, adesso c'è anche tutta l'area pedonale, questa qua non ci sono più le macchine un luogo di grande turismo e quant'altro pochi sanno che durante la resistenza questo è un luogo colonizzato dai nazisti, questa è una cartina che abbiamo trovato nel fondo CWL dell'Istituto Nazionale Ferocio Parri che proprio disegna quelli che erano gli uffici tedeschi che avevano sede lì all'epoca che addirittura c'è un ufficio con i cavalli di Frisia quindi uffici estremamente importanti più là c'era la TOD di tutto questo ovviamente nel tessuto urbano non c'è traccia non c'è una labia non c'è un ciclo non c'è nulla che ricorda questa cosa ok questo mi dà lo spunto per cominciare il prossimo discorso su 1945 ma sentiamo se ci sono altre domande vostre di diversità, curiosità io ho una domanda aspetto allo strumento quello che è più dirizzato per sviluppare il giorno cioè vengono sparti in giro per la città Perti e Nizi adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo o comunque posso già dirlo il gioco si sviluppa per arene diciamo così nel senso che convochiamo i giocatori non è a ciclo continuo cioè si fissa una data si fissa un orario i partecipanti si trovano lì a quell'ora di quel giorno e trovano lì me e Giorgio Berti che interpretiamo due personaggi della Resistenza non siamo in abito cerchiamo di vestirci in modo non troppo modello evitiamo magari le scarpe da tennis però tendenzialmente non siamo in abito Giorgio interpreta l'agente segreto Ugo che per l'altra si scopre essere Luca Austeria quindi doppio e triplo giocchista io interpreto R che è un'altra spia Francesco Sabarini era il vero nome da questo punto in poi io e Giorgio ci dividiamo diciamo e mandiamo giocatori in diversi luoghi tendenzialmente in arene appunto quindi vanno nella prima arena risolvendo un primo enigma e la prima arena è la Mutti poi in realtà la caserma Mutti quindi di Arrovello e lì poi invece Giorgio dà loro delle altre missioni una per ogni squadra sono divisi in brigate per questo momento è importante sono divisi in brigate quindi è un gioco competitivo cioè i giocatori competono tra di loro e poi arriviamo a capire come si dice come si parla ma più avanti arrivati nell'arena diciamo Giorgio dà loro delle missioni ogni brigata una missione che li porta in un luogo diverso loro in questo luogo devono effettuare un'attività che può essere fare una foto piuttosto che tornano quando torno non trovano più Giorgio ma trovano me che gli dico che è passato del tempo quando gli dico che è passato del tempo gli faccio che scrivo le carte e poi ci arriviamo anche su quello gli faccio una breve contestualizzazione di quello che hanno visto e poi gli faccio una contestualizzazione storica e gli mando alla seconda arena e poi alla terza arena e poi c'è l'enigma finale questo è lo sviluppo del gioco è diverso per esempio invece da un altro che ha fatto copisto di create resistenti che si svolge a moda sempre sulla resistenza anche di questo che parliamo che invece è un gioco che si svolge a ciclo continuo cioè le persone vanno nel punto di inizio gli viene data la missione poi man mano gli interagiscono su whatsapp e gli vengono assegnate le missioni successive io eccepisco sul fatto che e che resistenti sia un gioco per un semplice fatto che vincono tutti non è possibile perdere nel senso che se sei troppo in difficoltà ti danno l'indizio non c'è il luogo di venire d'arrivo perché essendo a ciclo continuo io inizio prima naturalmente finirò prima di chi è arrivato un'ora dopo quindi mancando il senso di vittoria e di sconfitta manca una delle quattro caratteristiche che abbiamo visto prima del gioco nel termine anno 45 anche se tutti quanti concorrono con la missione che è sostanzialmente liberata da Lucio Parri c'è una brigata che vince che è quella che accumula più punti poi vediamo cosa sono questi punti ok? altre domande? documenti d'archivio io vi ho fatto vedere questa non a caso perché i documenti d'archivio in anno 45 hanno un'importanza enorme prima importanza per ricerca storica per fare in anno 45 io ho visto qualcosa con i 200 fascicoli d'archivio del fondo CWL una ricerca che è durata due mesi a cercare carte a cercare anche elementi che potessero chiarire meglio cosa si era mosso perché il gioco sostanzialmente appunto parte con l'arresto di Parri il 3 gennaio 45 e quindi l'obiettivo dei giocatori è liberare Ferruccio Parri e io ho cercato nelle carte anche per capire che cosa effettivamente si è tentato e poi la grande storia non lo ha riportato per liberare Ferruccio Parri cercare appunto di sfruttare le pieghe della storia le zone grigie il più possibile e quindi questo è sicuramente una prima il primo elemento importante una prima modalità importante in cui i documenti sono stati usati la seconda lo sviluppo è svolto nella trama io prima gli ho detto convochiamo i giocatori a un certo punto e gli diciamo delle cose e gli diamo una missione ma su che base? sulla base del documento cioè quando noi diciamo a un certo punto dovete recuperare i piani militari che pare era con sé quando è stato arrestato non è che io lo dico io perché su sensibilità no gli diamo una copia ovviamente non l'originale se non l'archimista mi fa un mazzatarallo ma insomma una copia del documento originale che dice è proprio questo il documento operato del 4 gennaio 45 questi piani sono andati smarriti quindi c'è il documento che aiuta a dare le svolte nella trama a accelerare e a dare le missione terzo gli documenti sono elementi di gioco e questo oggi voi lo farete con me noi abbiamo usato i codici cifrati partigiani originali per far decifrare dei messaggi ai giocatori e farli spostare da un luogo piuttosto che da un altro quindi sono tre idelli bisogna entrare nel game design domande su questo lo chiama? a libro di game design ecco qui vi faccio un attimo un parallelismo tra i chi li esistenti e il 1945 per capire anche come abbiamo proceduto allora i chi li esistenti ha come protagonista Irma che è una staffetta è un personaggio immaginario ma comunque è verosibile in anno 45 in realtà come protagonista Ferruccio Parri i protagonisti sono i giocatori però la missione è liberare Ferruccio Parri allora è chiaro che se tu fai un gioco sulla biografia di un personaggio noto tu puoi inventare poco potresti anche farlo ma se vuoi fare un gioco che sia aderente alla storia di città puoi inventare poco puoi sfruttare le zone grigie ma insomma fare un gioco sulla vita di Ferruccio Parri Ferruccio Parri ha fatto questo e questo e quest'altro vi ricordo che l'Auco Babini che avete conosciuto noi abbiamo detto abbiamo fatto un gioco su Ferruccio Parri mi hanno 45 fa ah che bello lo facciamo anche a Modena no Parri non è mai stato a Modena come faccio a fare un gioco su Ferruccio Parri a Modena no ok è chiaro che se noi proviamo a seguire il percorso di una biografia di una vita all'interno di un tessuto urbano rischia di diventare un po' complicato Parri viveva prima in un luogo che viveva in un altro poi si è spostato in un altro quando era entrato in clandestinità lavorava lì poi lavorava là se non c'è una relazione coerente a legare tutti quanti questi luoghi il giocatore si disorienta no d'altro canto dobbiamo anche evitare l'altro effetto l'effetto opposto cioè l'effetto mister guidata no ah se magari in questo posto Parri è stato qui ah che bello facciamo le prove allora è finito no ci sono due tendenze contrapposte che vanno sempre bilanciate quando si fanno urban game storici appunto perché la narrazione deve essere c'è un altro problema scusate il campagnismo qui prende il possesso di me ma Milano cioè Milano ma come anche Torino sono città che hanno delle dimensioni importanti fare un urban game a Modena nei luoghi più significativi della resistenza è facile io faccio il giro di Modena in macchina un quarto d'ora cioè una volta ricordo come vivevo lì detto ah no sì c'è un parcheggio di dietro vabbè dai facciamo il giro del centro quanto ci pieghiamo ma sì dieci minuti c'è un nuovo qua e infatti dopo dieci minuti eravamo lì e aveva dato il parcheggio falla Milano il giro del centro vedi quanto ci vuoi cioè le dimensioni della città sono le dimensioni dell'arena di gioco dello spazio di gioco è chiaro che in una città più grande è la città più l'arena di gioco deve essere ristretta ad alcuni luoghi li puoi prendere tutti per esempio far andare i giocatori a San Vittore che si trova rispetto al centro distante 4 km 5 km a piedi è un po' complicato quindi per tutto questo abbiamo deciso di non fare un gioco appunto sulla vita di Ferruccio Pari ma sul particolare avvenimento della sua vita cioè l'arresto e la liberazione perché effettivamente è una trama vigente di per sé come una spy story se non analizzare gli attori in campo quello che si voleva fare quello che si è tentato quello che non si è riuscito sembra effettivamente la trama è l'utilizzazione perché c'è un'altra motivazione dei giocatori dove si dice che devono liberare un personaggio importante che peraltro i giocatori sono partigiani delle formazioni GL quindi devono liberare di fatto il loro comandante e poi appunto è una vicenda che comunque permette di toccare anche con alcune scelte diciamo un po' azzardate tutti i luoghi i luoghi più importanti di quel periodo ad esempio alla Mutti Pari non va alla Mutti non viene mai incarcerato la Mutti lo portano direttamente a San Vittore però noi gli facciamo andare alla Mutti con che scusa gli facciamo vedere un documento in cui dice che a gennaio del 45 la Mutti era attiva nelle perquisizioni in casa Pari viene arrestato in una perquisizione in casa quindi potrebbe essere andate vedete se è lì quindi rendiamo plausibile anche l'inserimento di un luogo che non necessariamente era legato alla sua alla sua al suo arresto ok per quello che vi ho detto adesso sostanzialmente dove c'è la storicità nel triangolo degli design tema ok nelle componenti c'è la storicità sui documenti quindi c'è nelle meccaniche ma quello che vi ho detto fino adesso non tanto e invece noi abbiamo voluto inserire la storicità anche nelle dinamiche perché siamo proprio delle teste storici le carte evento cioè dopo a ogni arena come vi dicevo prima quando i giocatori si possono andare dall'altra ne facciamo passare del tempo in questo tempo che passa i giocatori e le brigate pescano una carta che riproduce un evento una dinamica della guerra e del generale del 45 quindi carte con effetto negativo bombardamento e avastrellamento carte con effetto positivo gli avviolanci e le notizie delle radio clandestine e carte invece con effetto neutro notte tranquille e niente di nuovo sul fronte occidentale perché cosa succede quando pescano queste carte succede che tirano un dado e il numero di dadi il numero del dado fatto determina quanti punti guadagnano o perdono solo che i punti non sono punti astratti e questo lo diciamo subito nella testa la segna punti loro hanno le famiglie cioè il loro obiettivo qual è? è quello con le loro azioni risolvendo le missioni di acquisire il consenso di più famiglie della cittadinanza che non hanno la resistenza cioè più loro hanno successo più famiglie sostengono la resistenza alla fine la brigata che avrà portato più famiglie a sostenere la resistenza avrà vinto perché perché ha portato un maggior contributo alla resistenza milanese ok? naturalmente perché queste carte questi eventi? perché naturalmente se c'è il bombardamento le famiglie vengono perse perché? perché lo sforo non muoiono sotto le macerie la stessa fase di rastrellamento vengono portate via mentre invece gli aviolanci quindi i rifornimenti anche di cibo e le notizie delle radio clandestine che raccontano delle vittorie partigiane alleate aumentano il consenso della popolazione le notizie della resistenza quindi la storicità naturalmente appunto c'è anche l'elemento dell'alea quindi la storicità entra all'interno anche delle meccaniche di gioco abbiamo tentato di fare un'esperienza durante la pandemia online su zoom è stata molto azzardata quella faccia ma hai ragione è stata molto azzardata no, non è riuscita molto bene per il semplice fatto che se tu hai un gioco che è gressato per un'arena fisica per essere un gioco pervasivo trasferire il pubblico digitale facendo fare le ricerche su Google ma perde completamente i significati cioè i luoghi se il gioco è pervasivo i luoghi vanno sull'alimentazione di una persona ce li deve andare completamente ok? ok allora siete troppo vicini voi a Origliate ok allora dunque ogni brigata adesso vi do anche i nomi delle brigate che sono brigate reali allora voi siete la brigata Gasparotto Leopoldo Gasparotto voi siete la brigata Casman voi siete la brigata Rosselli e l'ultima è la brigata Trentin ogni brigata elegge un comandante e una staffetta il comandante è colui che deve dirimere le situazioni in cui non sapete cosa fare sostanzialmente se siete incerti e la staffetta invece è quella che adesso verrà qua e si prenderà le cose che vi darò grazie a tutti ci servete le pende poi voi decidete chi è il mio sarà la staffetta sono quattro giusto ne manca una una testa una testa come vedete c'è anche nome e cognome formazione mi scrivete la vostra formazione digitale e un nome di battaglia che vi scegliete adesso in realtà questa cosa qua riproduce la tesserina originale che noi diamo durante il gioco che è questa non ve la potevo dare tutto perché la scansione temporale è diversa in questa fase ma ok guarda nome di battaglia non hai visto la giornata nome di battaglia sembra una banalità e anche i ragazzi in cui facciamo il gioco di solito lo inverto da una comporta leggere in sé nome di battaglia è la fondamentale di due uno nascogliere l'identità quindi ci viene un nome che non abbia a che fare con quello che è il loro nostro vero nome cioè io spiegerei un'unica b Anita perfetto secondo a cosa si arriva in nome di battaglia soprattutto dei partigiani magari dei quadri dei partigiani è un altro modo per darsi coraggio quindi si sceglie come magari un eroe greco o a non so a ero ero c'è l'altra spesa l'altra bellissima l'altra quindi non sottovalutata ma perché continuamente è una fase importante non diventare ok allora ci siamo avete tutti quanti indicato il vostro nome di battaglia si ci siamo tutti ci siamo caspa ci siamo ci siamo va bene allora cominciamo va bene allora siamo a gennaio del 45 mentre in Europa il conflitto vede la Germania avvicinarsi lentamente ma inesorabilmente alla sconfitta per il movimento di liberazione italiana cioè per voi la situazione è rischiosa e complicata così inizia la nostra storia mentre in Europa il conflitto è della Germania avvicinarsi come abbiamo già detto per il movimento di liberazione italiana la situazione è rischiosa e complicata nell'estate del 44 si era registrata una grande crescita numerica delle formazioni partigiane che avevano arruolato sempre più combattenti le azioni armate di spionaggio però da termine con successo erano state moltissime il proclamo Alexander del 13 novembre però e i grandi rastrellamenti nazisti e fascisti dell'inverno sono giunti con una scura in attesa falcidiando gli organici e le nostre brigade sia in pianura che in montagna ora nelle città lacerate dai bombardamenti e controllati dai nazi fascisti la caccia che appartiene dalla resistenza si fa più serrate a canita quindi dobbiamo fare molta attenzione l'appoggio della popolazione diventa fondamentale per trovare rifugio e nascondere materiale destinato alla rotta di liberazione le armi il cibo ma anche i volantini la stampa propagandistica o anche solo semplicemente per non essere denunciati in attesa della conclusione dell'ostimità che la radio e i giornali clandestini descrivono come sempre più vicina Milano ancora scossa dai fatti di Piazzello del reto dell'agosto 44 e dalle bombe sembra trattenere il respiro mentre i capi della resistenza prendono posizione e pianificano l'attività clandestina che dovrà condurre la città e l'Italia tutta alla liberazione non è molto che avete deciso voi di unirvi al movimento partigiano milanese un amico vi ha messo in contatto con l'Egidio Liberti nome di battaglia cellulinica il commissario politico delle formazioni GL ovvero giustizia e libertà che sono legate al partito d'azione e voi avete la tesserina del riconoscimento che vi dice che siete proprio dei partigiani giustizia e libertà è una fredda mattina del 2 gennaio 45 quando Cellini suona la porta di casa vostra quando li aprite l'aria vi colpisce vi sveglia per quanto è fredda come è stato quasi sempre in quel gelo d'inverno milanese Maurizio ti ha convocato il commissario non ti dice altro mentre ti porge un picco Maurizio ripeti a te stesso allungando la mano Maurizio è il vostro capo il vostro comandante apriamo questo plico guardate questo plico e ditemi dove dobbiamo andare magari provando a decrittare il messaggio perché non deve stare io non ho la più palle di ovviamente potete usare uno smartphone per trovare la soluzione quando avete riciclato il messaggio usate il vostro cellulare visto che devo mettere più di istante se no è già risposto e quando avete trovato un ufficio esatto la staffetta della brigata viene da me e me lo sussurra la staffetta della brigata di Sparotto per caso dovete dirmi qualcosa di Sparotto si però chiarissimo risolto ma sei un genio sei un genio Vincenzo Monti 92 scusate possiamo cambiare comandante in posta e cioè io non me ne fai comandante ho fatto un comandante io non ho capito se voi inserite come hanno fatto loro le coordinate vieni la vera la vera la vera brigate partigiani per favore le coordinate da inserire erano decifrando il codice macchi 45 gradi 28 primi 36 secondi nord n 9 gradi 0,9 primi 41,2 secondi est gradi non ore primi secondi e comunque n nord est n ne sono da inserire facendo così loro sono arrivati alla saluzione Vincenzo Monti 92 quindi la brigata voi che brigata siete Gasparotto come il contestiano erano forbianti no no che forbianti ma che ricorso ma qua c'è solo la funzione ma che ricorso vorrei ricordarvi vorrei ricordarvi che siete dei partigiani in clandestinità e che dovete ci fare un messaggio se ce l'avete fatta bene se non ce l'avete fatta mi dispiace ma siete dei partigiani in clandestinità non fate come i ragazzi l'altra volta che andate a prendere il gelato al bar ecco i partigiani che vanno a prendere esatto mi amante di avere quindi quello lì della 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 ok 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 allora come cosa è buona allora non è proprio un po' c'è poco ma non ha nevi dentro che importa è difficile però è quello su ma non è quello l'ho fatto poi lo mi sono non è non è non ci fanno la non è Ok, siamo? Dovete decidere adesso, partigiani, partigiani, valigate, dovete decidere ora come andare in via Vincenzo Monti. Brigata Trentin, ci siete? Sui navigli. Se avete dei dubbi il comandante decide o votate. Lontano, mediamente lontano ma non lontanissimo, si può andare con agio se entrano anche in Vincenzo Monti a piedi. Decidete voi, se siete in disaccordo o non diventate d'accordo, il comandante decide. Noi abbiamo deciso. Ok, comandate voi? A piedi. Per capire se potete andare a piedi, un tiro di dado da 2 a 6 va bene. Uguale, comandante. Dobbiamo fare? Da 2 a 6, è lì. 6. 6, perfetto. Brigata Casman, come andate voi? Bicicletta. Bicicletta, ok. Per capire se siete riuscite ad andare in bicicletta, vedete un dado e dovete fare da 1 a 4. Da 1 a 4. Tanto cominciate a venire anche voi se avete deciso. Uguale. 4, perfetto. Voi comandate? Bicicletta. Ok, tirate il dado da 1 a 4 dovete fare. Tiralo dentro lì. Qua, dentro questo? Sì. 2, perfetto, ok. Voi comandate? Mi sono comandante 8, 9. Andiamo in bicicletta. Bicicletta. 2. Perfetto, ok. Da 1 a 4 bastava. Ok. Allora. Chi ha deciso di andare in bicicletta? Chi ha deciso di andare a piedi? È arrivato. No. È arrivato. È arrivato. È avuto una famiglia in più. Chi decide di andare in bicicletta? La bicicletta in città è il mezzo di locomozione dei GAP, i gruppi di azione patriottica. Piccole squadre di partigiani, 3 o 4 circa, che si spostano per le vie e le piazze, compiendo azioni armate spesso clamorose. Prima di rileguarsi con grande rapidità, proprio grazie alla bici. Sono talmente temuti che nazisti e fascisti decidono di imporre norme severissime a chiunque si sposti con questo mezzo. Le perquisizioni sono il minimo. Ogni bici a suo ingresso in città deve avere le gomme sgonfiate e persino essere privata della catena. Non avete scelto il metodo migliore per raggiungere la vostra destinazione. Potete decidere di continuare in bici o proseguire a piedi. Decidete. Potete cambiare idea. Continuate in bici. La Rosselli continua in bici. Casma? No, siamo... No, scusate, Trentino continua in bici. Scusate, Rosselli. Casma, avete deciso? Continuate con la bici o anche Casma. Rosselli? Rosselli? Brigata Rosselli? Continuiamo in bici. Continuate in bici. E venite arrestati. No, no, no. Quindi avete perso tutte le grele brigate, due famiglie, quindi noi l'avamo già vinto, praticamente. Se dovete stare fermi un turno, a meno che non facciate sei con il dado da sei. Diciamo così, va? Questa cosa c'è anche nel... Quando si fa fisicamente. Uno. No, però metterlo giù così non funzionerà mai. Quattro. Quindi tutte le brigate, Casman, Trentino e Rosselli, stanno ferme in turno. Però a Caspita, ve l'avevo pure detto, eh. Cioè, attenzione, non avete scelto il mezzo meno convinto di andare in bicicletta. Vabbè. Se si prende il tram, cosa succede? Se si prende il tram, si è costretto ad andare a piedi perché c'è un bombardamento e quindi le rotaio, però non si perdono punti. E non si viene arrestati. Il tram ci può stare. Cioè, perché una scelta così penalizzante? Perché effettivamente scegliere la bicicletta a gennaio del 44 non era proprio un'idea furba. A parte che a gennaio faceva anche un pozzo di freno, ma al di là di quello. Comunque non era una scelta saggia. Veramente le biciclette, quella cosa che c'è scritta delle biciclette che venivano sgonfiate le ruote, tolte le catene, era vera. Era una cosa vera. Era un decreto vero. Quindi effettivamente continuare ad andare in bicicletta non è stata proprio una grande idea. Ok. Quindi, chi è andato a piedi o ha proseguito a piedi è arrivato in via Vincenzo Monti. Quindi per adesso c'è soltanto la brigata Gasparotto. Arrivate in via Vincenzo Monti davanti alla palazzina numero 92. Maurizio vi aspetta, ma con la coda dell'occhio notate una figura con un cappello e il cappotto che si avvicina con circospezione. Avete poche scelte. Cosa fate? Mi fidate e aspettate? Non mi fidate e andate via? Oppure entrate nel palazzo? C'è solo loro dovevano scegliere, voi siete fermi. Veloci? C'è solo non chiediamo più. Vabbè, entrate nel palazzo. Entrate nel palazzo. Loro entrano nel palazzo e quindi voi con loro che adesso rientrate in gioco. Ah, ok. Entrate nel palazzo. Entrate nel palazzo. Entrate nel palazzo. Scusate. No, i primi punti, scusate. Ho sbagliato. Io forse no. Ok, va bene. Va bene. Ah, intanto la situazione dopo il primo capitolo, dopo la premessa, è Gasparotto 5 famiglie, tutte le altre meno 2. Meno 2 famiglie. Non lo so, mi hanno perso. Se volete scrivere i punti, man mano, ma con cui li sto tenendo anch'io. Allora, entrate nel portone senza voltarvi. Quasi non degnate di uno sguardo il custode che vi si fa incontro con aria corrucciata. Imboccate alla rampa di scale, cercate piano piano l'appartamento giusto controllando i nomi sui campanelli. di quale suonate? Decidete e ditemi cosa fate. Zolle? Rosselli, Trentini, voi cosa fate? Sono ritornati. Mi stanno fermi solo in giro. Veloci? Zoller. Zoller, Zoller? Martini, voi? Rosselli? Zoller? Scusate, ho sbagliato io intanto. Quindi, Trentin. Allora, visto che evidentemente Zoller è la risposta giusta, vediamo cosa è successo alla brigata Trentin. Andando. Andando. Ok. La brigata Trentin è stata cacciata dalla palazzina. Perché non c'è nessun campanello, questo però questo nome, dopo vari giri a vuoto tra i pieni della palazzina, in cui il custode perde la pazienza, con una scopa in mano di correre incontro, paunazzo dalla rabbia, fuori di qui non vogliamo altri guai, esclama. Non mi resta che correre di nuovo fuori dall'edificio. Ok. Quindi, la brigata Trentin, la vedremo al capitolo 2, perché è uscita dalla palazza. Quindi, Zoller. Ok. Quindi, la brigata... Attenzione, appartamento Zoller. Appena il campanello emette il suono caratteristico, la porta si spalanca davanti a voi. Non c'è stato alcun rumore di chiavi stella o di chiave nella toppa. Questo significa che era già aperta, come se qualcuno vi aspettasse. Davanti a voi si pare immediatamente un soldato uniforme, un errore di stato, dai simboli delle sue spille e da un barcato accento capite subito che è tedesco. Cosa fate qui? Chi state cercando? Vi chiede per il torio. Il sangue vi si gela nelle vene. Avete poco tempo per trovare la risposta giusta. Chi state cercando? Maurizio, signor Zoller o la signora Zoller? La signora Zoller. La signora Zoller. Signora? Brigata Rosselli? Signora. Signora Zoller. Bravissimo. Se avete detto Maurizio, avreste tradito. Sì, era il nome di lui. Ok. Maurizio è il nome di lui. Ok. Ok. Quindi, la scelta giusta per tutti. A parte loro che sono già fuori. Ok. La signora Zoller. Eh? Cosa? Ha tristezza sta signora. Ah vedo, ha appena arrestato Parrice. Scusami, è stata un po' scossa la signora. La signora Zoller è in un cantuccio della sua casa vicino a una finestra. Un uomo al suo fianco in piedi la sorveglia. La sua uniforme è diversa dall'aspetto e dall'atteggiamento un po' indolente. Si direbbe un italiano. Un fascista. Il soldato tedesco ti tocca a far volere il suo corpo ingombrante. Cosa ci fate qui? Cosa volete da lei? Il sangue non ha nemmeno ripreso a scorrere che si raggela di nuovo. Farfugliate qualcosa. Volevo solo sapere come sta. Il tedesco ti guarda strano, anche se i suoi rivamenti si rilassano un poco. Cioè, nonostante, continuano a farvi passare. La signora Zoller ospitava due individui, marito e moglie, che sono sospettati di essere in contatto con dei ribelli. Stavolta è l'uomo accanto all'anziana donna a parlare, con voce asciutta e in un italiano perfetto. Starà bene, ma ora non può ricevere visite. Cosa fate? Parlate comunque con la signora Zoller o annuite andate via? Veloci, eh? Ci metto una vista davanti, eh? Quindi dovete ricevere in fretta. Voi siete fuori? E voi vedete suonato il camionato sbagliato. Andate via, voi? Andiamo via. Date via, Rosselli? Cicco. Cosa? Parlate? Non è stata una buona idea. Parlare vi ha fatto arrestare. Se tirate, se venite qui e tirate il dado da sei, forse potete riuscire a liberarvi. Ovviamente la scelta giusta era andare via in un appartamento pieno di fascisti e di nazisti. Ok, quindi voi siete la brigata, Rosselli. Ma nella realtà quindi i ragazzi sono davanti per condurre? Eh? Per fare il gioco? No, perché di licenza molti è lontana. No, questa, siccome è un'esperienza online, questa che usiamo a livello didattico, soprattutto, abbiamo introdotto in queste specie, o introdotti in questa esperienza, molti degli elementi che non abbiamo potuto mettere nel gioco urbano, evidentemente. Anche per non fare spoiler sul gioco urbano, fortunatamente. Perché sennò uno va lì, la deve, se la guarda... Ma è quello che avete fatto nella pandemia? Mi anche. Questo qui è l'altro, no, quello era sul zoom, questo è stato un altro pezzo che abbiamo fatto nella pandemia che poi ho raffinato successivamente, e con un paio di cose aggiunte proprio apposta per oggi, per riuscire a renderlo più gioco di ruolo. Ok, siamo davanti all'appartamento a Via Vincenzo Monti, quindi la brigata Trentin rientra in gioco perché sono lì davanti, la brigata Rosselli sta ferma a questo turno. La misteriosa figura, quella che avevate visto da prima, che avreste fatto meglio forse ad aspettare, si avvicina, a un metro da voi si ferma, con calma si accende un sigaro. Voi siete quelli nuovi, vi dice, io sono R. Fa una pausa prendendo una gran boccata di fumo. Siete qui per vedere Maurizio, ma non ci riuscirete, lo hanno appena catturato. R fa una pausa, il silenzio è tombale. Maurizio è il nome di battaglia di Ferruccio Pari, il comandante delle formazioni giustizia e libertà e il vice capo militare della resistenza, ma questo già dovreste saperlo. Tira un'altra boccata e prosegue Gli avevamo trovato una sistemazione in via Marcona 103, ma la casa non aveva stufa e per qualche giorno lui e sua moglie si sono fermati dalla vedova Zoller sotto il falso nome di Pasolini. Nello stesso palazzo abbiamo sistemato anche due partigiani, sono loro che i nazifascisti cercavano. Ci hanno tradito? chiedete voi, istintivamente. No, assolutamente. Purtroppo però uno dei due, Martino, ha incautamente confessato di essere in rapporti con gli inquinimili all'appartamento della signora Zoller. Questo naturalmente è un crimine. Essere in contatto con dei sospetti ribelli è un crimine, appunto. I tedeschi hanno quindi prelevato sia Pari che sua moglie. Per fortuna non credo che li abbiano identificati, non ci sono molte foto di Maurizio in giro, una delle poche ce l'avete voi, in realtà. Cosa facciamo? Andate via o chiediamo di più a R? Cosa fate? Tra i team? Chiediamo di più, noi chiediamo di più. Chiedete di più? Rosselli? Chiedete di più? Guardate via. Allora, Rosselli non può partecipare, scusate. Tra i team? Chiediamo di più, voi chiedete di più, Gasparato? Chiediamo via. Gasparato è batteria? Gasparato va via. Abbandonato la missione. Vabbè, però abbiamo un sacco di mani. Quindi Gasparato è stato fermo in turno. E invece Kasman e Trentin, che hanno giustamente chiesto di più, la curiosità, uccise il gatto, ma in questo caso va bene. Anche Rosselli? Anche Rosselli. Rosselli non poteva giocare alla precedente, perché eravate fermi. Adesso è entrati in gioco. La domanda vi nasce spontanea, anche se non avete ancora deciso se potete fidarvi o meno di quell'uomo. Dove erano i nazisti? Non lo so, risponde R, ma sono stati tedeschi, quindi le opzioni sono solo due. Non serve che l'uomo ti dica quali, lo sai perfettamente. Uno è il carcere di San Vittore, dove i nazisti hanno assunto il controllo di ben tre settori. L'altro è il comando dell'SS a Milano, che si trova all'Hotel Regina, vicino all'uomo. Questo è il cuore pulsante del nazismo a Milano. Qui a sede il comando cittadino dell'SS, Guiliano Matteo Morelli, che è circondato dei peggiori sgherri, sia tedeschi che italiani. Dove volete andare? Oltre a Regina o San Vittore? Ma noi non possiamo andare. Lo siete voi? Oltre a Regina? Rosselli e Trentin, cosa fate? Rosselli e Trentin, cosa fate? Rosselli e Trentin, cosa fate? Quindi anche Gasparotto. All'Hotel Regina, vediamo dopo. Intanto andiamo a San Vittore. Anzi no, c'è in capo solo a Trentin, giustamente. Averso tornati all'Hotel Regina. Ok. Appena occupata la città a settembre del 43, i tedeschi hanno requisito alcuni raggi del carcere. Il quarto e il sesto, destinati ai detenuti politici. E il quinto, destinato agli ebrei. A capo della sezione tedesca, è ora l'SS Rottenpure Franz Staltmeier. Lo chiamano la Belba, ed è facile immaginare perché. Torture e sedizie durante gli interrogatori qui sono all'ordine del giorno. Se Parli non sia stato identificato, l'avrebbero già portato all'Hotel Regina. Sappiamo però che ancora non hanno scoperto la sua identità. E quindi molto probabile, per non dire certo, che non hanno ancora scoperto la sua identità. No, che lo tengono qui con qualunque potenziale, perché il certo era dei partigiani tedeschi, non hanno ancora capito che hanno tra le mani. Provate a intrupolarti o vi appostate. Solo la Trentin, perché solo la Trentin è andata San Vittore. Quindi solo la Trentin. Cioè, ci appostiamo. Ci appostiamo. Scusate perché non mi ricordo tutto, quindi devo un attimo... Ma anche perché sareste stati arrestati, sposatati al carcere. Ok. Quindi vi appostate. Ok, però facciamo che... Ok, entrà da San Vittore. Quindi vi appostate, terre San Vittore. Ora già chiama anche noi. No, no. Alla terra regina ci sono solo loro. Cioè, al San Vittore ci sono solo loro. Quindi. Per tre giorni attendete in vano che accada qualcosa, che qualcuno vi distruzioni. L'inverno è freddo, ma un compagno all'armi di ospiti in una casa che affaccia sul carcere. Nei pressi del muro vicino c'è sempre movimento. I tram si fermano e ripartono sferragliando sotto la strettissima sorveglianza dei soldati tedeschi. Avete quasi perso la speranza quando qualcosa attira la vostra attenzione. È la mattina del 5 gennaio alla fermata del tram. Notate due soldati tedeschi. Intorno a loro ci sono alcune persone, ma una di loro in particolare attira la vostra attenzione. Il suo volto viene nuovo. Quale di questi tre volpi viene nuovo? Quello al centro? Perché Parry, voi non lo sapete, è stato trasferito da San Vittorolo, tra la regina, in tram. È una cosa vera questa, riproduce una cosa vera. Poi è stato trasferito in tram, come se fosse appunto un detenuto qualsiasi. Perché non aveva riconosciuto? Perché non aveva riconosciuto. Esatto. Bravi Trentini, state rimontando con questa... Ma certo è ferruccio Parry, possibile che i tedeschi le stiano trasportando in un altro posto in tram. La cosa vi stupisce e perdete un attimo preziosi. Il tram arriva e Maurizio sale insieme ai suoi carcerieri. Correte ma non fate in tempo, le porte si chiudono davanti al naso. Per fortuna in lontananza... Scusate. In lontananza vedete che sta arrivando un altro convoglio. Decidete di salire e di seguire quello che avete appena perso. Incollate la faccia al finestrino, attenti a tutto ciò che si muove sul marciapiede. Siete tesi e avete la gola secca. Sperate di avere tempo a sufficienza per notare l'esatta fermata alla quale Parry ve l'ha fatto scendere. Io devo controllare una cosa però, scusate. Ok. Ok. Siamo alla terra regina. Però, qui, come si dice, nel frattempo, quelli che erano andati alla terra regina, cosa è successo? Quindi vediamo poi la terra regina. Dunque eravamo a chiedere di più. Qualcuno ha dato la terra regina. Chi è che ha dato la terra regina? Noi. Voi recuperate più la terra regina. Entrati in campo che è la terra regina. La terra regina. Sì. Quindi entrati in campo anche voi. Eccolo il cuore pulsante del nazismo milano. La terra regina. Cercate di non avvicinarvi troppo per evitare che le sentinelle vi aggrediscano. Da dove vi fermate non riuscite comunque a capire granché. A un angolo della strada, poco lontano, vedete ancora R. Cauti vi avvicinate. Non è qui, vi dice lui semplicemente. Come lo sapete? Domandate l'istinto. R sorride. Ho le mie fonti, risponde. Per i tedeschi padre e sua moglie sono ancora i congi Pasolini. Sono sicuramente a San Vittore, ma può essere che li trasferiscono qui nei prossimi giorni. Voi che siete la terra regina, cosa fate? Vi appostate e andate a San Vittore? Sapete che sta arrivando. E' anche l'estate, esattamente. Sono avvantaggiati. Tutto che è da notte. Ma se non hai stato potuto dare un campanello, ma vergogna. Non tranne lo che è regina. Qua sono ancora avvantaggiati, anche voi, ma tanto non prendono punti per questa parte. Per tre giorni attendete in barna che è accadda qualcosa, come in esituzione, l'inverno è freddo, ogni giorno sono scattate al giro dal tramonto, si vede di occupatissimi per non dare sospetti, per non dare sospetti tedeschi, e avete quasi perso la speranza quando qualcosa attira la vostra attenzione. E' la mattina del 5 gennaio e da uno dei molti tram che passano davanti all'hotel notate scendere due soldati tedeschi. Intorno a loro ci sono alcune persone, ma una di loro in particolare attira la vostra attenzione. Il suo volto gli è noto. Ma certo, è Ferruccio Padri. Ok, e qui moriamo tutti finalmente all'hotel regina. Allora fatemi fermare voi con i conti. E' il nostro albergo nazionale. Eh, giusto, credo. Allora, allora. Vediamo che magari gli aggiorno sui punti. Perciò che c'è l'hotel regina. Perciò che c'è l'hotel regina. Perciò che c'è l'hotel regina. Allora, facciamo un totale parziale. Dunque 5, 6, 7, 6, 8. Quindi, alla fine del capitolo 2, Gasparotto, 8. Kasman, meno 2, più 1, più 1, più 1, più 3. Kasman. Rosselli, meno 2, più 1, più 1, meno 1. Quindi siamo a meno 1. Più 2, più 1, Rosselli. E Trentin, meno 2, più 1, più 2, più 3. Quindi più 3, Gasparotto, più 3, Kasman, più 3, Trentin, e più 1, Rosselli. Ok. Siamo l'hotel regina. Provate un brivido mentre osservate Maurizio barcare la soglia dell'edificio, sempre accompagnato dai due gendarmi. Lo avete sentito dire molte volte. L'hotel regina è il cuore pulsante del nazismo a Milano. Non sapete cosa fare. Seguite parli. Aspettate. Mentre decidete, mi si avvicina una figura nota. Se stai pensando di entrare lì dentro, scordatelo, ti dice R. Ma allora cosa facciamo? Chiedete smarriti. Verola niente, risponde R. I tedeschi ancora non sanno di aver catturato parte. Di rompere l'invento significa di far capire loro che hanno un po' di importante. E poi c'è un'altra missione che vi aspetta. Vi porge un documento. Cosa fate? Lo prendete o ricordate? Lo prendiamo. Lo prendete? Gasparotto lo prende. Kasman lo prende? Anche Rosselli. Anche Rosselli. Trentin? Eh, Trentin. Non mi fate altre cazzate che ne avete già fatti. Lo prendete perché se l'aveste rifiutato l'aveste rinunciato. Ok, i piani militari. Questo è il documento che dice che Pari aveva come se un incartamento quando è stato arrestato. Quindi bisogna recuperare quei documenti. È un documento di ieri, dicembre, 5 gennaio. Sappiamo il documento, se vedete, è data 4 gennaio 1945. A quanto pare non abbiamo trovato l'incartamento segreto che Pari aveva in casa e che stava consultando mentre è stato arrestato. L'hanno preso i tedeschi e i fascisti? Chiedete. Può essere, risponde, può essere, può essere, può essere, può essere, può essere una delle due cose, può essere entrambe le cose. Cosa volete che faccia? Domandiamo ancora. Trovate quelle carte, le originali, se possibile delle copie, mandate dai nostri nemici, trafugate dai nazisti, non lo so. Dobbiamo riavere quei documenti. Ci sono informazioni sui rifornimenti alleati, mappe, codici annuite. Non serve che R vi aggiunga altro per farvi capire quanto è importante. Dovete solo decidere dove andare. Ora, questi luoghi vi defino meglio perché se no non capiscono. Un luogo amico è il credito italiano. Un luogo di Parri è la Edison, dove Parri lavorava fino a 1944. Un luogo nemico è Formula Parte, avete visto la cartina prima del perché. Un luogo noto è invece via Vincenzo Monti. Dove volete andare? Il luogo di Parri qual è? Il luogo di Parri è la Edison, dove lavorava fino a 44 parte. La brigata Rosselli è rimasta senza un componente. Poi andiamo, un luogo amico. Un luogo amico, Rosselli, un luogo amico. Ok. Poi, Trentin, Casman, Gasparotto. Un luogo di Parri, Casparotto. Un luogo noto è la cartazola. Un luogo noto via Vincenzo Monti, ok. Qui ognuno vede in un posto diverso, bello, mi piace. Allora dovete andare in forma una parte. Ah, veramente, in un posto diverso, fantastico. Allora. Allora, facciamo, appriamo in altre schede. L'uogo amico, chi è che ha detto che andava nel luogo amico, credo italiano? Il Loro. Voi, ok. Adesso facciamo uno per uno. Voi vede, non l'avete detto il luogo... Buonaparte. L'avete detto farò Buonaparte, voi, no? Ok, l'uogo nemico, ok. Il credito italiano, quindi questa è la missione dell'abbergata Rosselli, giusto? La sede del credito italiano, sapete che l'uomo che lo dirige non solo collabora secretamente con la resistenza, ma è il capo del CLN Alta Italia, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, il capo politico del movimento partigiano dell'Italia occupata dei nazifascisti. Grazie al suo ruolo in questa banca e ai suoi buoni rapporti con l'inglese e i finanziamenti, ha fatto arrivare diversi rifornimenti e finanziamenti alla data partigiana. Il suo nome è Alfredo Pizzoni. Forse lui può aiutarci. Cosa fate? Entrato? Tornate indietro. Stai rimasti in due. Chiedete del direttore e un commesso vi accompagna direttamente al suo ufficio, non mi fa domande. Quando avvarcate la soglia l'uomo vi accoglie seduta alla scrivania in gombra di carte, la mano stringe una penna. Mi guarda sollevando e inflinando la testa e con aria interrogativa. Appena il commesso se ne va, parlate. Sono qui per avere i piani di Maurizio. Pizzoni posa la penna e si protende all'indietro, poggiandosi allo schienale. Pensavo di portassi tu a me, replica. Io non li ho. Per questo abbiamo scritto agli alleati di rimandarci il documento del 4 gennaio. Quindi i piani non sono qui. Ok. Allora, luogo di parri. Chi è che l'ha scelto voi? Edison. Ok. Luogo di parri. La Edison. La sede dell'Edison. Qualcuno, non ricordi bene chi, ti ha detto che Pari ha lavorato nell'ufficio storico dell'azienda e che addirittura ha mantenuto qui il suo centro operativo per alcuni anni durante i primi mesi della resistenza. Forse l'ha usato ancora senza dirlo a nessuno. Forse qui ci sono i documenti che cerchiamo. Entriamo o torniamo indietro? Con discrezione fate un giro tra gli infigini. Moltissima gente ha lavorato a causa della guerra, quindi è riuscita ad arrivare a quello di Pari senza difficoltà. C'è ancora il nome sulla porta, ma dalla quantità di polvere sulla scrivania, capite che è da molto che nessuno ci entra. Cercate, con poco ottimismo, e infatti non trovate nulla di interessante. Lui siete Gasparotto, ok. Dunque, invece, la Karsman ha detto luogo nemico. Ok. Foro buona parte. È una zona controllata severamente dai nazisti. I numeri 16 e 18 ci sono importanti uffici, i cui ingressi sono delimitati dal filo spinato. Poco distante, a sede uno degli uffici del Reichsrundfunk, evittente radio del Terzo Reich. Trafugare il materiale qui è estremamente rischioso. Fate un tentativo, tornate indietro. E dai, sono più per la seconda. Facciamo un tentativo, noi possiamo anche morire. Avete fallito la missione. Chi siete voi, Kasman? Ok. E state fermi in turno. A meno che non fate sei col dado. Ok. Quindi, invece, la Trentin è andata in via Vincenzo Monti. Un tentativo rischioso, ma forse è quello che ha più senso. Se i piani originali non sono caduti in mano ai tedeschi, è probabile che siano ancora dove Parli. Stava consultando l'appartamento Zoller. Se, come dice Erre, i nazisti non lo hanno riconosciuto, forse non l'hanno perquisito a fondo la casa. Tanto vale fare un tentativo, ma con cautela. Probabilmente qualcuno ancora sorveglia l'edificio. Entriamo, torniamo indietro. Entriamo, ovviamente. Se no, l'abbarco non andiamo. Passate rapidamente davanti alla portineria. Il custode non sembra essersi accorto di voi. Andate diretti all'appartamento Zoller. Bussate, ma nessuno risponde. Azionate la maniglia e come una sorpresa la porta si apre. La casa sembra vuota. Vi aggirate con circospezione, ma pian piano prendete fiducia. Ci vuole poco per individuare lo studio dove siete vatari al momento dell'arresto. Lo perquisite a fondo. E proprio quando sembra aver perso la speranza, tirate un dado. Se fate da 4 a 6, trovate i piani militari. Altrimenti no. Non li avete trovati, ma il gioco va davanti lo stesso, altrimenti avremmo fatto game over. Diciamo che invece li avete trovati. Un po' per fortuna, mentre consultate sull'armadio, in realtà i pacchi cadono. Quindi non li avete trovati, ma mi cadono addosso e quindi avete recuperato i piani militari. Avete recuperato una mappa degli impianti idroelettrici della zona, contatti dai tedeschi e dai fascisti. Un codice cifrato con le coordinate dei lanci aerei, degli agliolanci. Una mappa dell'Italia settentrale utile per capire quali sono le zone migliori per i lanci degli alleati. Tutti i documenti originali. Vi basta un'occhiata per capire quanto è prezioso il materiale acquisito. Ma anche è rischioso, se i tedeschi e i fascisti ti perquisissero, saresti spacciati e comprometteresti anche l'area di Isle. Per fortuna il 5 gennaio, in inverno è vivido, sotto al cappotto è difficile capire cosa porta un uomo. Nascondete bene il pacco ed uscite dalla casa con cautela. Ora non vi resta che voi non potete, no, casmano un po' perché è stata arrestata. Cosa facciamo? Cercate, aspettate? Cercate, cercate, aspettate, aspettate, cercate, è uguale. Sostanzialmente si arriva sempre qui. Intanto vi do la situazione. 10 famiglie Gasparotto, 7 famiglie Trentin che è risalita, 3 famiglie Casman e Rosselli. Ma tutto può ancora succedere. Ok, siamo con i piani in mano. R però sembra sparito. Custodiamo i piani gelosamente in una intercapendina del nostro appartamento, sperando in un rapido incontro, ma nulla. Trascorre un mese intero, poi all'improvviso nella fredda mattina del 3 febbraio R si presenta alla vostra porta. Che fine hai fatto? Ti di subito. Ti ricordi dei piani e li togli dal loro masconniglio, glieli porgi. R li accetta con un gesto semplice. Il mese è stato terribile, confessa. Nel volto si percepisce la stanchezza. All'hotel Regina Maurizio è stato riconosciuto immediatamente, pure per caso. È stato un agente di pubblica sicurezza che allora aveva arrestato tempo fa. I tedeschi hanno aumentato la sorveglianza e lo stanno interrogando. Stringete i dunni pieni di rabbia. Dobbiamo liberarle, esclamate. Abbiamo perso troppo tempo. R li guarda intensamente. Qualcuno si sta organizzando. Agirà stanotte. Il suo nome di battaglia è Edi. Secondo me è un azzardo. Se Maurizio verrà liberato, sarà attraverso altre strade. Qualcuno si è dato il nome di battaglia. No, io mi chiamo Edi. Ah, dai. Edi, in realtà, è il nome di battaglia di Edgardo Sogno. Quindi è un personaggio reale anche questo. C'è un mese un partigiano turinese quando c'è la targa, un programma d'ora che si chiama il macedo. Di nove, proprio. Sì, sì, è una soglia. Ma va, vedete, c'è una soglia che poi è uno di quelli che fa il colpe borghese, insomma. Ok, cosa facciamo, quindi? Cerchiamo Edi per unirci a questa missione di sanataggio o seguiamo R? Ah, la brigata Rosselli si è rimasto in due. Una della brigata Kasman si vuole unire, la brigata Rosselli per dare manforte. Aldo, ti vuoi unire alla brigata Rosselli per dare una mano? Allora, loro hanno deciso. Noi siamo con Edi. Voi con Edi, quindi anche voi tutti e due con Edi, anche voi Edi avete detto? No, no, voi R, ok. Edi, R, Rosselli? Cerchiamo. Voi cercate Edi, ok? Voi Edi o R? No, aspetta. C'è il suo nome? No, è un simbolico. Simbolico? È un segno del destino. Quindi abbiamo più Edi che R, tre Edi e un R. Solo voi seguite Edi, voi tutti e tre Edi. Ok, allora andiamo con Edi. Allora, la missione di Edi è lo stesso R a portarti da Edi. Edi è Edgardo Sogno, militare inviato in Italia dal governo italiano del sud con l'appoggio dell'esercito britannico che lo rifornisce di armi e materiali attraverso gli aviolanci. Ha creato e dirige l'organizzazione Franchi. Appena lo vedete, vi stringe la mano, ma non si torna inconvenevoli. Ti spiega subito il piano. L'azione per entrare all'hotel Regina è semplice e pure folle. Entrare nell'albergo indossando un uniforme della milizia tedesca, fingendosi datore di messaggi speciali, sparare contro i tedeschi, liberare parri e scappare con loro. L'effetto a sorpresa sarà la nostra forza, dice Edi, convinto. Vi unite alla missione oppure andate via con R? Voi se avete seguito R? Voi che fate? Unite alla missione. Andate via. Trentin. Ok, quindi, Kassman e Trentin si uniscono alla missione di Edi. Trentin e Kassman, avete detto? Assalto all'hotel Regina. Tornate all'hotel Regina con il cuore in gola, ancora più tesi dell'ultima volta. Edi sembra molto sicuro di sé, conduce voi e i vostri due compagni all'interno con grande tranquillità. Salite al primo piano. Una volta lì però tutto precipita. Qualcuno grida, qualcun altro spara. Edi è stato riconosciuto. Scappate, urla, mentre estrae la pistola ed esplode i primi colpi. Presto! Non hai molte scelte. Prendete le scale e vi dirgete giù verso l'atrio e su verso il testo. Verso l'atrio. Verso l'atrio, Kassman e Trentin. Trentin, veloce, dovete decidere in fretta. Tetto. Allora, giù verso l'atrio, Kassman. L'atrio è pieno di SS che hanno sbarato la via di fuga. Vi sono addossi molti e vi impediscono ogni azione armata. Siete stati catturati, la vostra missione è fallita. Se fate un chilo di dadona 6, potete forse liberare, se liberate l'atrio. Uno. Niente. Ok. Invece chi è che sale a Trentin, sale verso il tetto. Fuga sui teppi. Salite le scale di volata. Sì, comunque un meno uno, ve lo siete beccato, però per aver seguito Henry. Salite le scale di volata e guadagnate l'esterno, da lì in pieno centro. Non è difficile passare da un tetto all'altro, però per vedere se effettivamente avete avuto successo nell'andare sul tetto, staffetto comandante, le vengo io da voi, dovete fare almeno 5 o 6. Arrestata anche la brigata 20. Ok. Quindi la brigata trentina anche niente. Eh, la partita più 3. Casman è un disastro sta quarto capitolo. La partita è stata 0 adesso. Più 10 Gasparotto, più 6 trentin, più 3 Rosselli, 0 Casman. Gasparotto che è andata via con R ha fatto la meglio cosa. Ok. Qui vedete la terra regina. Sogno, questo è un messaggio del 6 febbraio in cui si dà notizia proprio del tentativo di Eddie, di Eddie, scritto con due lima in realtà era con una sola, che ha tentato la liberazione e che effettivamente è stato arrestato, dice il documento. Quel generoso tentativo. Quel generoso tentativo, perché mi potevano dire a un coglione che avevano detto generoso tentativo, cioè si dice, è il 6 febbraio, il mio compleanno peraltro, quando tu a R li li vedete, sempre nel vostro appartamento, Eddie è stato catturato, è la prima cosa che ti dice, è una constatazione priva di emozioni, in fondo lui se lo aspettava. Non solo, la sua azione ha convinto i tedeschi che trattenere Maurizio qui è troppo pericoloso, il 4 febbraio l'hanno trasferito al carcere di Verona. Le gambe ti cedono per lo sconforto, più che sederti sul letto ci crolli sopra, tutto è perduto, mormori. Certo che no, sciocco, ti apostrofa R, ti avevo detto che la liberazione di pari avrebbe seguito altre strade. Il trasferimento non cambia molto, la macchina è già in moto. Senza capire bene alzi gli occhi verso di lui. Allora, ti domanda R, vuoi ancora dare il tuo contributo? Sì, è fermo. No, tanto loro sono fermi, quindi non c'è niente. Accettate tutti? No, tutti, Garcassman, no, Vio di Castarotto e Rosselli che sono le uniche due, ok, accettate. Perfetto. Questo è un documento originale, anche questo di R, qui c'è il numero 56, che era il numero del suo codice di informatore, l'informatore 56 del CUL che dice proprio quello che c'è scritto sotto. R, vi porge un documento, mi sto accingendo di inviarlo al comando del Corpo Volontario Libertà, dice. Lo leggi con attenzione. Gli alleati si sono mossi, stanno trattando direttamente con Karl Wolf, il capo dell'SS nel nord Italia. I tedeschi sanno che la guerra ormai è persa e vogliono arrendersi per garantirsi la salvezza, non solo dalla cattura, ma anche dai processi che gli aspettano dopo la fine del conflitto per i crimini di guerra di cui si sono macchiati. Ma questo è un altro discorso. E pari di cosa c'entra in tutto questo, domandate. Gli alleati hanno chiesto la sua liberazione come prova di buona volontà, risponde Ebe. Le trattative sono già cominciate e noi possiamo portare il nostro piccolo contributo. Scegliete voi da dove cominciare. Abbiamo quasi finito, eh? Avvocato Adolfo Dino, Curia Vescovino, Banca Commerciale. Mi ricordo la storia di Mussolini. Sì, sì. Da dove comincia? Tu comincia, Curia Vescovino, loro, voi? Casman? Preti anche a Trentino, la Curia, ok? Rosselli? Banca Commerciale. Banca Commerciale? No, ma io dei preti no. Dai preti no? Nei preti ci sono dei preti no, cioè decidete. No, ma qui c'è questa obbligata, c'è una spaccatura in porto. E quindi se l'ha fatto la vostra regina. Oh no. E' ricalizzata. Casman, quindi dove andate? Commerciale, come avete detto, ok? Rosselli, scusate. No, no, io ho due da due. Io e tre in banca. Banca, qui due banca e due. Curia o non curia? Curia o incuria? Diceli mandante. Curia o incuria? Dai, non vuole fare in commento questa cosa. Ah, no, non è vabbè. Adolfo, così. Adolfo, così. A cazzo. Crescente che obbligata a Trentino voi. Angel Master è un paestro elementare, ma quello cattivo, quello con il richello. Lo studio di Adolfo Tino a Milano è stato fino a poco fa uno dei punti di ritrovo dell'antifascismo azionista. Qui Ferruccio Pari incontrava Riccardo Rombardi, Riccardo Vauro, Raffaele Mattioli, Umberto Gianotti Bianco, Bruno Vicentini, eccetera, eccetera. Sempre qui, nel 1942, è stato redato un documento dell'antifascismo che poi Enrico Cuccia, dirigente del servizio della banca commerciale italiana, è riuscito a consegnare agli alleati. Cioè non di meno l'avvocato non ha un momento in cui non voglio aiutarvi, li accogliere con cortesia, ma ti dice che fareste meglio ad andare altrove. E in effetti, chi è andato alla Puglia Vescovile, benissimo, ha fatto bene, alla Puglia Vescovile c'è Don Bicherai, segretario del Vescovile. In realtà per superare questa prova bisogna andare in due luoghi, che sono la Puglia Vescovile e la Puglia Vescovile, che sta mediando con i tedeschi per la resa, ed indirizza però in un altro luogo la chiesa di San Carlo Borromeo in corso di Vittorio Emanuele II, che è un posto più sicuro per portare avanti le trattative clandestine, è entrato in contatto con i compagni di lotta, ma per liberare pari necessari uno sforzo in più, che è quello di andare alla banca commerciale, come ci ha detto l'avvocato Tino, dove c'è la ricomiscia, dirigente della banca commerciale italiana, la resistenza con un canale aperto con gli alleati, tra quello garantito da Pizzoni, quindi questo è dunque un luogo fondamentale per le trattative, nelle settimane che seguono lo stesso Cuccia, da segnare l'attività ferme, manca un piccolo sforzo. Pari è libero. Ah, quindi ci sono i poteri forti, sostanzialmente, aspettate, però non è finita qua. Perché? Perché la brigata Casman non può più vincere, perché ha più uno. La brigata Rosselli potrebbe, e anche la brigata Trentin che ha tredici, perché l'ultima missione vale ben otto famiglie. La situazione è tredici, sei la brigata Trentin, sei la brigata Rosselli e uno la brigata Casman. La brigata Rosselli sono rimaste solo in due. Quindi io direi che la brigata Rosselli e la brigata Casman si fondono, e comuniscono le forze, e devono decifrare questo messaggio. E vale otto famiglie. E infatti, gli altri sono a sei. Sono a sei, possono ancora vincere. Come prima, quando avete risolto, alzate la mano e mi date un foglietto e me la dita all'orecchio. Qual è il messaggio del messaggio che ho intratto? Casman? Insurrezione generale da Liguarda. Esattamente. Perché effettivamente, il 25 aprile, i primi combattimenti sono dal quartiere Liguarda a Milano, dal quartiere Liguarda poi si estendono a tutta la città. Tedeschi, i paesi si resistono, ma con la mediazione, anche della Fuglia e Nesquundile, quindi i brevi sono importanti, la resa è completa. Ma qual era la chiama per un nome reggiano? Doverate molto semplicemente, la chiama per un nome reggiano. Bene, quindi in realtà ha risolto la Casman, anche se vuole, può cedere le sue famiglie alla Rosselli, le vuole cedere alla Rosselli. Quindi con questi otto punti la Casman va a più nove, cede le sue nove alla Rosselli, che va a quindice, quindi la Rosselli vince e deve ringraziare la Casman. Se stiamo a durarsi di meno, mi ero preparato un'altra attività da farmi fare, ma va bene, è così. Se ci sono domande, dubbi, perplessità... Non è un gioco di ruolo vero e proprio, questo è un adattamento evidentemente, però il concetto è un po' questo. Il gioco? È tipo di ruolo. Beh, i giochi di ruolo in quanto riguarda. Vediamo molto... Se le dimensioni per il gioco chiedete a noi, eh. Noi qua, resente, dovevamo stare in ufficio nascosti a reciturare le cose, non fare azioni, di strada... Ma noi sono anche il macchivo, no? Sì, ma... Il macchivo... Il Google Mac non funzionava. Bene. Tutti i documenti che avete visto sono documenti originali. Eh, a me. Tutti. Anche quelli che avete usato per decifrare i messaggi. È la cosa di cui andiamo un po' più orgogliosi. Di altro è l'esperienza questa, che è un gioco di ruolo, fino a un certo punto portarvi a Milano sarebbe stato molto bello, però molto complicato. Però in serie di documenti abbiamo visto che anche con i ragazzi, gli alunni, le studentesse, gli studenti, funziona abbastanza. Fanno vedere il documento dell'epoca, allora dicono, ma è vero, ma è vero, ma è vero. Ma lo usavano veramente, lo usavano veramente. Quindi è un icebreaker abbastanza efficace, devo dire. Altre domande? Ci sto. Tutto a posto? Tutto chiaro? No, è molto interessante perché avete comunque trovato i documenti, e qui è complesso, cioè... Allora, costruire... I tuoi documenti che ti dicono... Costruire un'esperienza in gioco di questione, naturalmente costa un lavoro, costa ricerca, però io ragiono sempre in ottica didattica, costruire una lezione giocata, tipo libro-gioco, infatti l'attività che vi avrei fatto fare, c'è stato tempo, è stata proprio questa, cioè prendere delle biografie e provare a farmi progettare, diciamo così, un gioco, una trama ludica sulla base di queste biografie. Quindi adesso non me lo apre, ma se riesco a farvi vedere, perché tutta questa roba qua che abbiamo fatto noi nell'ultima oretta, alla base ha questo. È un diagramma di flusso che determina le scelte. Questo naturalmente non è neanche così complesso, se ne ha fatto vedere, perché in realtà le scelte non sono così tante. No, fidatevi, non è così complesso, cioè c'è un modo di meglio. Però diciamo che in un'ottica di una lezione giocata, costruita in classe, uno si fa un piccolo diagramma, senza fare un Wordpress, si può fare anche un overflowing, un'immagine di slide, una slide e l'altra, si può usare un'attività di niente, e si può raccontare una parte della storia attraverso un prodotto di questo genere. Si praticamente funziona. Questo è Mindomo, se vi interessa il software per le mappe concettuali, Mindomo, ce ne sono una vagonata. Chiaro che documenti, io ho trovato i documenti dell'artiglio Parry, mi interessava che una cosa su Parry ho trovato i documenti lì. Però potete anche usare dei video, magari, che trovate online. non so se potrebbe fare una cosa sulla presa al potere del fascismo, per esempio, ora si possono recuperare dei video, succede questo, proiettate un video, mescolare anche un po' i linguaggi, mescolare un po' i video. Come? Casomoro? Anche perché no? Cioè, è un sistema che si applica un po' a tutto, diciamo. L'importante è essere, se l'obiettivo è trasmettere conoscenza, è essere il più aderente possibile. Non che voglia essere nozionista con tutti i costi, però... Però se l'obiettivo è quello lì. Però poi la cosa importante, scusami Erika, non è tanto le nozioni, non so quanto vi è passata questa cosa, ma l'idea era proprio quella di immergervi nella Milano del gennaio del 45. Sì, quindi devi scegliere anche una storia, perché mi sceglie una storia, che cosa è una storia, ma il livello... Però gli sputti ci sono, gli sputti ci sono. Sto pensando, vabbè, lavoro in una situazione che si occupa di educazione non formale e faccio parte dei dati, quindi nel termine i due pezzi è certo di portarle avanti. Questa cosa mi collega al fatto che non chiedevo di action bound, perché è un'utilità che utilizziamo spesso quando non abbiamo così tanto staffa a disposizione, cioè lasci le missioni in giro e vengono, tra virgolette, gestirsi le loro storie. Ad esempio, c'è una foto o un video o una cosa del genere. La questione, vabbè, lavorando anche con l'ambito internazionale, quindi lavori, ragazzi che non conoscono per mente i luoghi, le storie, eccetera, è interessante la veridicità, però trovo che possa avere molto senso anche raccontarle come delle storie, tra virgolette, astratte e non stereotipate, ma storiettivo, tra virgolette, e quindi ispirarsi non necessariamente scendendo nell'espektivo di come si sono svolte per dare l'idea. Mi chiedevo quanto di, cioè, in questo caso è un dubbio letterale rispetto ai fatti, mi chiedevo se nella valutazione rispetto ad altri percorsi, non so se tutto intorno a parte o se ci sono altre figure, ci sia stata anche una romanzazza, romanzazza, romantica, romanzazza, romantica, ma poi no, ma qualche scelta, quella dell'Annunti, oggi qui nell'esperienza non siamo andati, ma nel Rubal Game li facciamo andare all'Annunti e come dicevo prima, pari Annunti si sa che non va, e in realtà si sa da subito che non va, quindi noi lì abbiamo fatto una piccola forzatura che aveva il senso di far conoscere il luogo dove c'era la caserma della regione di Monti, a Dinani. Allora, in realtà gli ho tratto con un documento che ci fa un po' la pezza di appoggio, quindi siamo sempre fortunati. Io tendenzialmente preferisco di chiaro il meno possibile, cioè, provare ad azzardare qualcosa di verosimile ma cercare di, cioè, non li faccio andare, che ne so, a un altro luogo, magari a Biancamano dove c'era effettivamente il comando partigiano, no, quel comando partigiano era del 44 che era dismesso, non ve l'ho usato, storicamente, se avrebbe un controsenso e non li faccio andare. Quindi io cerco sempre, però, se l'idea è proprio di trasmettere un clima, un processo storico, ci può anche stare un po' il vision. Live Action Role Playing che stiamo progettando sul collede list dove, evidentemente, c'è la prevalenza di Brigata Garibaldi, noi cercheremo di mettere invece tutti i colori, uno perché da un punto di vista proprio, diciamo, di divisione in squadre è molto pratico e molto efficace e due, per narrare la contestità anche a persone che non conoscono per niente la storia del partigianato, eccetera, quindi mi chiedo appunto se viene percepito in chiave storica sicuramente di una forzatura, però in chiave ludica può essere efficace. Non so qual è il compromesso per chi è un compromesso. che è un compromesso che è molto delicato tra giocabilità e attività e quindi quello io preferisco sempre mantenermi però non sacrificando comunque la giocabilità. Mentre sulla questione che dice di tecnica noi in realtà non lasciamo delle cose da fare ma abbiamo stabilito il sistema delle arene con una cosa che si ha un po' inventato Giorgio e che ne fa anche i molti più di me e quindi noi oggi stiamo in due sono in due con dei compiti molto diversi io faccio più di intermezzi collegamenti storici nella razza di storia e poi a Giorgio invece gli dà le missioni. Il tuo è un punto centrale dove gli raccogli poi gli dai le missioni loro le vanno a risolvere e la soluzione te la danno su WhatsApp. Ovviamente è un anacronismo però come fai oggi a impedire anche a dei ragazzi di usare WhatsApp per fare le ricerche o il Google ma fuori allora spieghiamolo però il sistema è questo cioè il punto centrale di ritrovo poi le missioni vanno a un tolto di tempo quando le hanno risolte porcano e si parte quella è la successiva quindi il sistema è un po' questi Allora i ragazzi questi qui sono quante più interesse quante più interesse perché negli inferiori c'è un problema di carattere anche legale nel senso che sono piccoli e ma non danno in giro da scoglie un problema noi infatti con le terze e quarte usiamo questo trattato abbiamo insegnato gli insegnanti e gli insegnanti fa la commissaria politica quindi di fatto che aiuta poco con la soluzione però li accompagna e decider facciamo che gli insegnanti sono i ragazzi ci sono l'arena ma allora riguarda ora camminano 3 4 fino a una cosa in lato perché abbiamo l'altro punto di ritrovo e piazza 15 questi spostano sia ravello che a 500 metri da lì hanno tutte prove del raggio di circolo poi si spostano verso il castello e anche lì hanno prove anche più vicine perché sono tutti in forma da fare e poi l'altra stella è l'hotel regina e poi da lì sono tutte proprie per l'energia di 500 metri il gioco si può fare 3 4 6 5 6 di tre a su noi abbiamo fatto l'altro giorno 4 gioco di 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 gioco ti ho deciso per 4 poi invece facciamo usando uguale anche le gioco magari come me va con 60 studenti ma devi prossimo io sono abbastanza terrorizzato 60 studenti perché effettivamente è ordine pubblico a un certo punto abbiamo gli insegnanti in ogni squadra però 60 sono tanti sono 6 squadre da 12 sono un po' tanti però vediamo l'anno scorso erano 50 ma c'è un certo numero limiti secondo me in queste esperienze uniche cioè le puoi fare per 60 sono tanti il massimo è sui 45-48 e già è fatica ma ce la si fa se si seguire bene i compiti ognuno sa come deve fare e le persone sono affiatate si riesce a fare quindi uno sta ma io già non ci vediamo qua ci vediamo all'inizio poi non arriva il primo che va in un luogo ma ci spostate anche voi? sì sì, certo noi ci spostiamo quando rimangiamo in un posto trovano una persona di noi due quando abbiamo da fare le missioni questa persona va nel corso successivo quando lo trovano lo trovano l'altro che li manda nel posto che è fatto che è andato alla polizia ma chi l'ha data lunga fino alla fine che poi in San Federico in realtà loro tornano e non trovano più Giorgio perché effettivamente è ammettato ad aprile del 45 Ostele effettivamente a febbraio viene chiamato dagli alleati in Svizzera che gli dà un brodo al sommifero perché stanno facendo un po' che si non respira quindi non l'ha raccontata e non l'ha arrestata quindi Giorgio torna un po' di cifra nel messaggio alla fine di torre già l'avendo liberato quindi però sì sì no in due si riesce a respira si riesce a respira e rispettare in un contesto il nuovo pubblico? è più complicato perché devi dare i riferimenti ma anche cioè in un contesto tu puoi dare una via quella è una piazza quella è un palazzo una lapide in un contesto che non va no ma devi muovere in vicini e poi devi essere in più di caso veramente no però per esempio da noi sui sentieri di montagna qualcuno deve chiedere ma lì a quel punto però devi riuscire allora c'è un vantaggio in realtà nel farne sentieri di montagna cosa che non puoi fare per esempio in città cioè io potrei anche lasciare una missione sul porto di un palazzo ma poi la persona la pagina su un angolo magari su un sentiero qualcosa lo puoi lasciare no e quindi a quel punto ti puoi aiutare con però a quel punto forse in montagna devi fare più itinerario che non una cosa all'arena secondo me ma cosa è lo stesso un punto di ritrovo si puoi fare un punto di ritrovo però il sistema delle arene che significa proprio avere un'attivazione periodicamente secondo me si presta molto per lo scenario urbano molto meno per lo scenario montano poi va anche in piccoli centri urbani Giorgio ha fatto una roba un po' più storia avate un misuno un gioco storico anche questo suo arena sono due arene però funzionante però anche di allo stazio quanto bene grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti